California VioLabs Tempest, un lettore CD a valvole basato sul Philips CD350 dell'85, monta meccanica Philips CDM2 e doppio convertitore digitale analogico TDA1540P. Si tratta di un lettore CD a valvole, quindi con lo stadio di preamplificazione composto da ben 6 valvole e al posto dei comuni amplificatori operazionali o transistor nei CD migliori. Questo lettore CD è stato completamente revisionato, pulita lenta, leggi masterizzati, è molto difficile da trovare e viene fornito con il kit Philips di telecomando remoto che era opzionale all'epoca dotato anche di imballo originale. Quando ero 15, 16, quando ero iniziato a giocare di guitarra, io sicuramente volevo diventare un musicista. Era quasi impossibile, perché il sogno era così grande che non ho avuto nessun chance, perché ero in una piccola città, ero studiando, e quando ero finalmente scopo, la visione di composa musica, la visione di composa musica, la visione di composa musica, la visione di composa musica che aveva un po' di composa musica. e singe, magari 30 minuti. I think I had about 7-8 songs. I would partially sleep in the car, perché non volevo andare a casa, e that helped me for about almost 2 anni, to survive in the beginning. I wanted to do an album with the sounds of the 50s, the sounds of the 60s, of the 70s, and then a sound of the future. And then I said, I know the synthesizer, why don't I use the synthesizer, which is the sound of the future. and I didn't have any idea what to do, but I knew I needed a click. So we put a click on the 20-foot track, which then was synced to the Mogue module. I knew that could be a sound of the future, but I didn't realize how much the impact would be. My name is Giovanni Giorgio, but everybody calls me Giorgio. and everybody calls me Giorgio. It's very set. Well, thank you guys if . I love this moment. For me it was nice to talk, I understand how many songs look after the symposium. The same thing I found in the upper 50s,